ciao a tutti buongiorno buongiorno buon mercoledì allora volevo fare un brevissimo video piuttosto che scrivere che magari diventa laborioso sul corso di naturopatia che era previsto a partire da questo sabato 15 poi il sabato 22 alle 14 alle 18 con un'interruzione il 29 di ottobre e poi la ripresa i primi due sabati di novembre l'abbiamo spostato l'abbiamo rimandato perché sia perché c'era un numero basso di iscritti ma anche perché forse molta gente si è persa questo appuntamento ci abbiamo visto persone che non lo sapevano non erano state informate oppure magari non ci hanno fatto caso quando facevamo le nostre dirette visto che diciamo tante cose e quindi magari uno se non è imminente non ci pone più di tanto l'attenzione ci sta siamo bombardati da tantissime cose quindi questo corso non è annullato è solo rimandato allora innanzitutto ci tengo a dire che non è un corso chiaramente che ha la pretesa di sostituire un vero e proprio corso ufficiale diciamo così di naturopatia perché quello si articola su tre barra quattro anni quindi ovviamente in quattro lezioni per quanto approfondite non si può certamente arrivare a fornire una preparazione di questo genere nel nostro il nostro obiettivo quello di mio e di carlo è quello di far conoscere fornire tutta una serie di informazioni che riguardano il proprio benessere personale quindi servendosi chiaramente dei rimedi naturali e di tutto quello che la medicina naturale ci mette a disposizione ed è veramente tanto e si rifà sempre al principio di diventare responsabili della propria salute quindi di non al primo problemino di non andare subito dal medico in farmacia ma di saper come muoversi almeno sui piccoli problemi ma anche alcune volte su cose un pochino più impegnative quindi siamo noi gli artefici del nostro benessere e la natura che è la nostra mamma ci mette a disposizione veramente tanto per tornare a star bene anche perché ricordiamoci una cosa come dico sempre i principi attivi dei farmaci sono copiati letteralmente dai principi attivi delle piante solo che quelli chimici non vengono riconosciuti dal nostro organismo e creano degli effetti collaterali inevitabili le piante i prodotti naturali che possono anche essere tossiche chiaramente ma se utilizzate nel modo giusto e nella giusta quantità hanno veramente la facoltà di farci tornare in salute perché sono lì per noi noi facciamo parte del mondo naturale quindi lo riconosciamo il nostro corpo lo riconosce comunque tornando a noi le prime due lezioni di naturopatia che a questo punto saranno dal 5 5 e 12 novembre con una pausa poi il terzo sabato di novembre per poi riprendere e terminare il 3 di dicembre le prime due lezioni sono più che altro teoriche diciamo così cioè forniranno delle informazioni su cos'è la naturopatia quando è nata quali sono i principi fondanti su cui si basa quindi tutta una serie di informazioni sicuramente interessanti parleremo anche di cose un pochino più pratiche ma puntiamo principalmente su darvi un'infarinatura perché molti non sanno nemmeno cosa fa il naturopata quindi un'infarinatura di quella che è la naturopatia e di quello che è il modo di curare naturale andremo a vedere nella storia come si è evoluto questo concetto e di tutto quello che può essere poteva essere considerato medicina naturale come era poi tutto fino all'avvento della medicina moderna che ha solo circa 150 anni e le ultime due lezioni quindi le seconde due lezioni andremo a fornire proprio degli strumenti pratici che tutti voi potrete mettere in campo per curarvi curare voi curare i vostri familiari i vostri amici sui disturbi più comuni quindi dagli oli essenziali che sono veramente un portento della natura chiaramente va usato con cautela e con delle accortezze perché veramente rappresentano l'anima della pianta e lavorano su più livelli non lavorano solo a livello di sintomo ma anche a livello animico a livello di informazione sulla nostra parte psichica quindi hanno una funzione a 360 gradi a rimedi che si basano su decotti tisane piuttosto che ne parliamo che spesso al martedì quando facciamo i nostri incontri di quelli che sono rimedi che tutti abbiamo in casa bene o male e che possiamo utilizzare per darci sollievo immediato quando abbiamo dei disturbi che vanno dal raffreddore al dolore al mal di testa al ciclo mestruale piuttosto che ecco quindi nella seconda parte vi forniremo tutta una serie di informazioni utili per voi e per la vostra famiglia per veramente stare bene e in caso di malesseri tornare in salute il più velocemente possibile sempre avvalendovi di rimedi naturali e quindi senza ricorrere inutilmente se non si tratta di cose gravi di pronto soccorso ovviamente sui quali ribadiamo sempre la medicina naturale non può molto perché in quel caso lì bisogna per forza ricorrere al medico alla medicina all'opatica perché ha a disposizione la tecnologia che interviene tempestivamente la medicina naturale interviene prima chiaramente a una sua funzione fondamentale per non arrivare al livello di estrema urgenza ecco quindi la medicina naturale agisce prima la medicina di pronto soccorso la lasciamo chiaramente alla medicina all'opatica perché lì veramente sarebbe da incoscienti di fronte a un problema urgente grave ricorrere alla medicina naturale non serve in quel momento ecco comunque vi forniremo tutta una serie di rimedi di soluzioni con cose ripeto che avete in casa per lo più o con semplici semplici piante anche aromatiche che avete nel vostro orto nel vostro giardino piuttosto che nei vostri vasi sul balcone e veramente vi daremo degli strumenti che possono servire per curare voi e tutta la vostra famiglia e anche magari i vostri amici considerate che molti sono rimedi della nonna i famosi rimedi della nonna che fino a cent'anni fa venivano utilizzati e venivano praticati con successo anche notevole e che poi sono stati soppiantati dalla medicina all'opatica che appena c'è un piccolo problema va subito a servirsi del farmaco per sopprimerlo sappiamo poi non risolvendo alla base quello che è il problema quindi niente vi aspettiamo con gioia se vorrete fare con noi questo mini percorso di presa di consapevolezza sulla vostra salute di approfondimento per quanto riguarda tutto quello che è il mondo delle erbe della fitoterapia degli oli essenziali chiaramente come dicevamo in maniera abbastanza veloce perché non possiamo fornire una preparazione che poi dura normalmente nel tempo ma chissà che per qualcuno di voi sia l'occasione poi per interessarsi talmente tanto da volersi iscrivere veramente a un corso di naturopatia diciamo di quelli che durano dei 3-4 anni chissà che magari non riusciamo noi come onda vitale a mettervi una scintilla dove vi nasce questa passione come lo è stato per me e per Carlo per tutto il mondo naturale che è veramente un mondo magico e vi spinga poi ad approfondire ulteriormente diventando degli studenti di naturopatia questo ci farebbe veramente veramente piacere ma anche se non intendete fare questo tipo di percorso sicuramente le indicazioni possono essere utili per la vostra vita quotidiana vi aspettiamo e se avete delle domande delle precisazioni maggiori siamo a disposizione chiaramente in un video non posso specificare troppo entrare troppo nel dettaglio ma siamo a disposizione per qualsiasi informazione vi dovesse occorrere grazie buona giornata e a presto ciao a tutti